In studio Valentina Frasca. Buonasera ai telespettatori di video mediterraneo. In apertura c'è la tragedia che si è consumata nel pomeriggio a lingua glossa. Alle pendici dell'Etna un Canadair dei Vigili del Fuoco che stava spegnendo un incendio si è schiantato. Si teme per la vita delle due persone a bordo, due piloti. Tragedia nel pomeriggio a lingua glossa alle pendici dell'Etna e il Canadair 28 dei Vigili del Fuoco, decollato dalla mezzia terme, è precipitato e si è schiantato nell'area in cui era in azione per spegnere un vasto incendio. Ci sarebbero due vittime, ossia le due persone che vi erano a bordo, ma la certezza arriverà solo se e quando i corpi saranno ritrovati. Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorritori, i carabinieri, i personale del 118 e una squadra degli esperti del nucleo speleo alpino fluviale. Presente anche un elicottero del corpo forestale della regione siciliana. Il Canadair aveva fatto da poco rifornimento in mare, nella zona, davanti a Giarre, per poi riprendere l'operazione di spegnimento dell'incendio nella zona di Monte Calcinera. Appena ora sembrerebbe un incidente tecnico che è successo. Fatto sta che sono persi due vittime nell'esercizio della riconzione. E' un altro barcone affondato a largo di Lampedusa, un morto e un disperso. Questo è al momento il tragico bilancio dell'ennesima tragedia del mare. Altri 31 migranti sono riusciti invece a toccare terra. E intanto 4 delle 11 salme che si trovano nelle camere mortuarie sono state trasferite a Porto Empedocle per la sepoltura. Ancora tragedia del mare a largo di Lampedusa, un barcone di 8 metri affondato. A bordo vi erano 31 migranti che sono stati soccorsi. Recuperato dalla guardia costiera, il cadavere è di una donna originaria della Guinea. Disperso invece un profugo della costa d'Avorio. La salme insieme ai superstiti sono stati fatti sbarcare a Molo Favarolo. Il cadavere è stato portato alla camera mortuaria. Sulla banchina del porto ad attenderli c'era la polizia scientifica. E intanto è stato ripescato il cadavere di un immigrato a diverse miglia di distanza dalla costa di Lampedusa. E' il sesto corpo recuperato negli ultimi tre giorni davanti alle coste dell'isola. Quattro cadaveri invece verranno trasferiti stasera con il traghetto Novelli. La motonave, su disposizione della prefettura di Agrigento, imbarcherà da Cala Pisana anche 500 migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Le salme, dopo che giungeranno a Porto Empedocle, dovrebbero essere trasferite ai cimiteri di Palma di Monte Chiaro e Favara per la tumulazione. E c'è chi ancora tra i superstiti vive la tragedia di quanto vissuto. Un ragazzo di 22 anni, che faceva parte dei 26 che viaggiavano su un barchino, racconta la terribile esperienza vissuta. Continua a vederli mentre annaspano in acqua. Tento di aiutarli, prova ad afferrarli prima di vederli scomparire tra le onde. Ma è tutto inutile, dice il ragazzo. Solo in 22 sono riusciti a raggiungere Lampedusa. Gli altri quattro, tre uomini e una donna, sono affogati davanti ai suoi occhi. A garantirgli supporto psicologico fra i padiglioni della struttura, il team di medici senza frontiere, sia il giovane della Costa d'Avorio che un altro ragazzo che era sul barcone, che ha preso fuoco e dove sono morti ustionati due bambini di dieci mesi e un anno, ci hanno detto, spiega uno del team, che non riescono a cancellare dalla loro mente quelle scene terribili. Tre medici assolti e quattro condannati a sei mesi ciascuno per omicidio colposo con pena a sospesa e la sentenza del Tribunale di Catania nel processo a sette medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro per la morte di Valentina Milluzzo, la 32enne, alla diciannovesima settimana di gravidanza, deceduta il 16 ottobre 2016 dopo aver perso con altrettanti aborti i due gemelli che aspettava in seguito a una fecondazione assistita. Assolti perché il fatto non sussiste il primario Paolo Scollo, il medico del reparto Andrea Benedetto Di Stefano e l'anestesista Francesco Paolo Cavallaro condannati invece i medici in servizio nel reparto e in sala parto avvicendatisi nei turni di guardia tra il 15 e il 16 ottobre del 2016. Era nella sua casa di Pedara l'81enne Camillo Bonaccorsi, il presunto autore dell'omicidio di Samuel Nizzari assassinato con diversi colpi di pistola. La polizia lo ha rintracciato. Non è stato ancora interrogato Camillo Bonaccorsi, l'81enne accusato dalla polizia di aver ucciso ieri pomeriggio intorno alle 15 e 10 il 46enne Samuel Nizzari davanti l'abitazione in via Carubella a Fasano tra San Giovanni Galermo e Gravina di Catania. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia e si attende di conoscere l'esito dell'esame per avere ulteriori dettagli su questo terribile delitto. L'81enne è stato fermato ieri sera dalla polizia a Pedara nella propria abitazione e adesso si trova ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. E sarà interrogato non appena i medici diranno che è nelle giuste condizioni. L'uomo ha consegnato agli investigatori la pistola utilizzata per commettere il delitto, pistola regolarmente detenuta. Pare che alla base dell'omicidio ci siano stati dissapori riguardanti alcuni lavori legati a una fognatura nello stabile dove il Nizzari abitava insieme alla moglie e ai figli e dove l'81enne possiede un garage. Quattro i colpi di arma da fuoco che l'uomo avrebbe sparato all'Nizzari mentre si trovavano in strada proprio davanti alla palazzina di Due Piani in via Carubella. I proiettili avrebbero colpito il 46enne alla testa e al torace. Pare che in passato tra i due ci fossero stati già altri dissapori, discussioni legate sempre a questo garage e alla fognatura. Dunque durante l'ennesimo scontro l'81enne avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro Nizzari uccidendolo sul colpo. All'omicidio hanno assistito diversi testimoni che hanno fornito l'assess dinamica del delitto. La procura di Catania ha disposto il fermo dell'81enne. Samuel Nizzari era dedito alla famiglia, molto tranquillo e conosciuto da tutti, così come hanno raccontato i vicini di casa e i parenti accorsi sul posto ieri pomeriggio dopo l'omicidio. A occuparsi delle innagini sono gli uomini alla squadra mobile di Catania. Una persona per bene, sempre disponibile, così i vicini di casa di Camillo Bonaccorsi, che è stato arrestato, come abbiamo sentito, come presunto autore dell'omicidio di Samuel Nizzari. E noi stamattina siamo stati a Pedara, dove l'uomo abita con la famiglia. Lo descrivono come una persona tranquilla, un buon vicino. È quello che ci dicono i vicini di casa che abitano in via Fabrizi. Siamo a Pedara, dove abita Camillo Bonaccorsi, il presunto assassino di Samuel Nizzari. Che tipo è il signor Bonaccorsi? Una persona molto tranquilla, molto serena. Niente di particolare, una persona normale, anzi. La stupisce questa notizia? Ma mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Una persona molto tranquilla. A tantissimi anni che la conosciamo non abbiamo mai avuto... E almeno qua, nella nostra zona, non abbiamo mai avuto di questo approccio. Una persona abbastanza tranquilla. Sono sconvolto di quello che mi dite. Un buonissimo vicino, perché due villette dopo la mia? No, 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 non è possibile. Sono una famiglia fantastica. I figli, la moglie. Stragi del 92, chiesta la conferma dell'ergastolo per Matteo Messina Denaro. Il procuratore generale Antonio Patti oggi ha ripreso la requisitoria nel processo che si celebra in Corte d'Assise d'Appello a Caltanissetta. L'accusa che si muove a Messina Denaro ha detto nell'udienza di aver deliberato le stragi. Dunque non è l'esecutore, ma il mandante. Il procuratore generale di Caltanissetta, Antonino Patti, ha chiesto l'ergastolo per Matteo Messina Denaro. Chiedo che questa Corte confermi la sentenza di primo grado per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Così, al termine della sua requisitoria del processo che si celebra in Corte d'Assise d'Appello a Caltanissetta per Matteo Messina Denaro, accusato di essere il mandante delle stragi del 92. Il riferimento è alla cosiddetta missione romana. quando fu un commando nel febbraio del 92 a partire dalla Sicilia per la capitale per eliminare Giovanni Falcone e Maurizio Costanzo. Falcone era uno dei pochi soggetti, continua Patti, che se in quel momento storico avesse subito del male qualsiasi investigatore, anche il meno esperto, avrebbe puntato l'attenzione su Cosa Nostra. Si parla di totale superficialità e inadeguatezza di Rina nell'organizzare la missione romana e che ha fatto affidamento a persone non tutte di rilevante calibro, mafioso. Ma ci aveva mandato le persone più importanti, come Giuseppe Graviano, che è un capomandamento, così come Matteo Messina Denaro. E non è affatto vero, poi, che nel sestetto romano c'era gente che non sapeva mettere mano sugli esplosivi. Rina giunge Patti a Falcone e lo avrebbe ucciso ovunque, anche sulla Luna. Lo dice lui stesso in un'intercettazione. In primo grado, Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo. L'accusa che si muove a Matteo Messina Denaro ha detto, nell'udienza scorsa, il procuratore Patti è di aver deliberato, insieme ad altri mafiosi regionali che rivestivano uguale carica, le stragi. Quindi ci occupiamo di un mandante, non di un esecutore. Ha specificato Patti. Arrestato un corriere della droga. Si tratta di un romano residente a Trecastagni. Aveva in suo possesso oltre 20 chili di sostanze stupefacenti, del valore di circa 165 mila euro. 12 chili e mezzo di hashish circa e 8 chili e mezzo di marijuana. Questo quanto sequestrato dalle fiamme gialle del comando provinciale di Catania. Un'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza con la collaborazione di unità cinofile della compagnia Pronto Impiego. La droga, che aveva un valore di mercato di oltre 165 mila euro, era nascosta nel vano portaattrezzi del rimorchio di un tir. Il camionista Corriere, un romano residente a Trecastagni, è stato fermato ed è ancora in carcere. Il provvedimento restrittivo emesso dalla procura distrettuale di Catania è stato convalidato dal GIP. È stata la reazione nervosa dell'autista che ha convinto a effettuare una perquisizione. Rinvenuto nell'autocarro, ben nascosto nel portaattrezzi del rimorchio, il quantitativo della sostanza stupefacente del valore di oltre 165 mila euro, se immessa sul mercato. Si presuppone che fosse destinata alle piazze di spaccio Etnè. Si trova ricoverata in prognosi riservata una donna di 33 anni, vittima di un incidente stradale nel pomeriggio sulla Modica Giarratana. La donna era a bordo di un ciclomotore quando, per cause da accertare, è entrata in collisione con un'auto betoniera. Ad avere alla peggio, come detto, è stata la 33enne che è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica e rischierebbe l'amputazione della gamba. Sul posto dell'incidente per i rilievi, la polizia locale di Modica. A Reggio Calabria è stata smantellata una rete di narcos calabresi. Di 200 i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza che hanno eseguito con il supporto di altri reparti del corpo anche nelle province di Catania e di Messina, 24 misure cautelari. Sono quattro in tutto le regioni coinvolte. Sono coinvolte anche le province di Catania e Messina nell'operazione della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 24 persone coinvolte in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Dal Brasile all'Albania ha svelata la rete dei narcos calabresi. 200 i militari che hanno operato del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello SCICO sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia. Il gruppo criminale, che per comunicare faceva uso di telefonini cellulari criptati, ovvero di cabine telefoniche pubbliche, si interfacciava con differenti organizzazioni che avevano le proprie basi operative proprio in Albania e in Brasile. Sarebbe stato scoperto che l'organizzazione era in grado di far giungere dal Brasile ingenti partite di cocaina stoccata in Svizzera per poi essere trasportate in Lombardia ed essere ceduta ad individuati acquirenti. L'inchiesta avrebbe consentito di scoprire come la consorteria criminale producesse in proprio ingenti quantitativi di cannabis, indica, curandone i successivi processi di lavorazione. È emerso come gli indagati e hanno realizzato una coltivazione di marijuana all'interno di una zona rurale del comune di Candidoni dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 1.227 piante di cannabis, 74 kg della stessa sostanza stupefacente, consentendo l'arresto di due dei responsabili colti in flagranza di reato. La compagine criminale gestiva una consolidata attività di smistamento dello stupefacente attraverso l'impiego di corrieri pronte a rifornire molteplici piazze di spaccio, fungendo da spola tra il territorio calabrese e quello siciliano. È stato arrestato in flagranza di reato un affiliato in procinto di imbarcarsi per la Sicilia. Un fermo ai tre denunce è il bilancio dell'operazione portata a termine dalla polizia che ha sequestrato oltre 5.000 kg di esplosivi. Oltre 5.000 kg di botti su tir sequestrati dalla polizia Centro Ordigni Esplosivi per un peso complessivo di oltre 5.000 kg sono stati sequestrati dalla polizia nell'ambito di un'inchiesta della Procura Distrettuale di Catania contro il commercio abusivo di artifici pirotecnici. I botti sequestrati erano del peso di 230 grammi al pezzo ed erano su un tir che è stato bloccato nella zona commerciale di Valcorrente Belpasso dalla squadra amministrativa della Questura in collaborazione con i nucleo artificieri della polizia. La Procura ha disposto il fermo dell'autista del mezzo, un 39enne, è stato denunciato in stato di libertà a altre tre persone. Il materiale sequestrato era privo di qualsiasi etichettatura o segno di riconoscimento e stava per essere trasferito dal Tira a un furgone parcheggiati davanti l'ingresso di un ristorante cinese. Dalle prime indagini i botti in minima parte erano destinati a ditte autorizzate di zafferana, jarre e belpasso. Gli inquirenti ritengono che per eludere il divieto a percorrere le strade dei centri abitati per il tipo di carico il mezzo veniva allocato per le consegne presso parcheggi di centri commerciali o autorimesse con la connivenza degli acquirenti disposti ad accettare appuntamenti dell'ultimo minuto e in violazione delle prescrizioni delle rispettive licenze amministrative. Il 39enne è stato condotto in carcere, il GIP ha convalidato il provvedimento restrittivo e il sequestro. Il 39enne è nel carcere di Piazza Lanza a Catania. La Sicilia è al nono posto per contagi da Covid-19 e quanto emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute in riferimento alle ultime 24 ore che ci dice anche che i nuovi casi sono 1.331. Leggero calo nei contagi in Sicilia nelle 24 ore rispetto a ieri sono 200 in meno i nuovi positivi. Ad oggi si contano 1.331 casi che portano il tasso di positività al 9,1%. La Sicilia è al nono posto per contagi. In Italia gli attuali positivi sono 19.980, i nuovi guariti sono 1.176, 2 i morti. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 312, mentre in terapia intensiva sono 18. A livello provinciale si registrano Palermo 338 casi, Catania 257, Messina 152, Siracusa 171, Trapani 166, Ragusa 82, Caltanissetta 50, Grigento 68 ed Enna 47. Intanto sulla campagna vaccinale relativa alla settimana dal 19 al 25 ottobre, secondo il bollettino da Zoe nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25%. Hanno completato il ciclo primario di vaccinazione il 21% dei bambini del target regionale. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'89%. I vaccinati con terza dose il 72% degli eventi diritto. Via libera dal presidente della regione siciliana Renato Schifani alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale per i danni alle produzioni agricole causate dalla siccità nel Catanese fino al 31 luglio di quest'anno. Dichiarazione di calamità naturale per i danni alle produzioni agricole causate dalla siccità che ha colpito la provincia di Catania nel 2022 fino al 31 luglio. I comuni più danneggiati sono 20, tra questi Catania, Belpasso, Caltagirone, Castel di Iudica, Gran Michele, Palagonia, Paternò, Radusa, Ramacca, San Cono, Scordia, Vizzini. Il presidente della regione Renato Schifani intende agire immediatamente per far fronte ai danni ormai irrecuperabili alle colture catanesi, danni che si ripercuotono sull'intero territorio, non solo regionale. Il parere favorevole è stato trasmesso alla proposta del Dipartimento regionale dell'agricoltura. Si tratta di colture arbore, compresa l'uva da tavola, agrumi e ortive. Da pieno campo sono le produzioni più colpite in provincia di Catania, con danni stimati per oltre 208 milioni di euro, pari al 39% circa del valore. Anche in questo caso veniamo incontro alle istanze delle numerose imprese colpite dalla siccità, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. E la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità è il primo passo verso il riconoscimento dei sostegni economici alle aziende agricole, che hanno subito gravi danni a partire dagli sgravi fiscali e previdenziali, ha specificato Schifani. Oltre 300 anfore risalenti all'età punica sono state individuate nel mare di Pantelleria a circa 130 metri di profondità, in un sito archeologico scoperto nel 2011. Oltre 300 anfore risalenti all'età punica sono state individuate nel mare di Pantelleria a 130 metri di profondità. Le immersioni nell'ambito del progetto Pantelleria 2022 hanno avuto il coordinamento scientifico della soprintendenza del mare della regione siciliana e sono state effettuate da un team di sette subacquei. Il sito archeologico era stato individuato per la prima volta nel 2011, ma solo adesso ci si rende conto dei tesori che effettivamente nasconde, grazie alla possibilità di documentare con immagini fotografiche e video la grande concentrazione di anfore puniche. Siamo solo all'inizio di una campagna di rilievo e documentazione, dichiara il soprintendente del mare Ferdinando Maurici, che certamente svelerà importanti tracce del passato. Continueremo lo studio di questo interessante e difficile sito subacqueo, vista la notevole profondità, grazie alla collaborazione dei professionisti che in questi anni ci hanno consentito di raggiungere eccellenti risultati nello studio della Battaglia delle Egadi. Nel corso delle immersioni è stata realizzata in particolare una fotogrammetria tridimensionale ad alta risoluzione, attualmente in fase di elaborazione, che consentirà di studiare la consistenza totale del sito archeologico e la tipologia delle anfore che, da una prima analisi delle immagini, sembrano appartenere a cinque tipologie, tutte di epoca punica. La maggior parte si presenta in buono stato e da una stima iniziale meno di un terzo appare fratturato. Qualche minuto di pubblicità adesso per noi, torniamo tra poco con altre notizie. Ben trovati in studio, seconda parte di MTG. Parliamo della prevenzione delle devianze giovanili. Questo infatti è lo scopo di due protocolli d'intesa e dei tre tavoli tematici che sono stati voluti dall'Osservatorio per la Prevenzione dei Fenomeni di Devianza Minorile che si è riunito oggi a Catania. Due nuovi protocolli d'intesa sono stati sottoscritti durante una nuova riunione dell'Osservatorio per la Prevenzione dei Fenomeni di Devianza Giovanile nell'area metropolitana di Catania. Lo scopo è di tutelare i minori dando loro concrete possibilità per il futuro. Con il primo in particolare è stata formalizzata un'intesa per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, inclusi quelli riguardanti minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari. Con il secondo protocollo verrà avviato il progetto CHAC, un processo simulato per evitare un vero processo. Nel corso della riunione sono stati anche costituiti tre tavoli tematici. Uno che riguarda le azioni contro la dispersione già avviate e che continueremo. L'altro i fondi del PNNR destinati alla rigenerazione urbana. E il terzo sulla sicurezza urbana e quindi sull'attività da mettere in campo. Un ruolo fondamentale come emerso questa mattina avrà giocato dall'ASP che con un'equip multidisciplinare prenderà in carico il minore. I gruppi di neuropsichiatri, psicologi, assistenti sociali che lavorano insieme producono una relazione unica a grande vantaggio degli organi giurisdizionali che non devono più chiedere ai vari nostri uffici. Avranno una relazione unica firmata da tutti i professionisti con grande semplificazione delle procedure. Queste echipe sono già partite in via sperimentale per il Tribunale per i miorenni. Oggi col protocollo saranno estese anche ai tribunali e alle procure ordinarie. I risultati già parziali che abbiamo già conseguito sono veramente molto incoraggianti. Devo dire che incidere su questo segmento, che è quello minorile, significa dare un incentivo importante al progresso di questa società, alla sicurezza. ma soprattutto allo sviluppo economico, sociale e culturale. E parliamo adesso della vendemmia. Sembra davvero un'ottima annata per la Sicilia. Cento giorni di raccolto, una vendemmia da record nell'isola. E' giunta al termine in Sicilia la vendemmia più lunga d'Italia. Appunto, cento giorni di raccolta. Iniziata nella parte occidentale dell'isola tra la fine di luglio e la prima decade di agosto. E si è conclusa a fine ottobre nei vigneti dell'Etna. Le premesse per ricordare in Sicilia l'annata 2022 come un'annata eccellente ci sono tutte. Uva sana, dal punto di vista fitosanitario, e in perfetto equilibrio acido-zuccherino. Ottime sensazioni organolettiche, grande qualità, con bianchi freschi ed equilibrati, e rossi che lasciano presagire strutture e complessità importanti. La congiuntura climatica si è rivelata favorevole per l'intero ciclo vegetativo e determinante per la qualità delle uve. Un autunno piovoso, seguito da un inverno con minori precipitazioni, e una fredda primavera. Le alte temperature e la siccità dell'estate siciliana hanno inibito la diffusione delle malattie della vite e inciso solo in alcuni casi, sul calo della produzione, per circa il 5-10%. E a proposito sempre di Vendemmia e Menfi, nell'Agrigentino, la città italiana del vino 2023. La premiazione è in programma a metà novembre. Sarà a Menfi, in provincia di Agrigento, a forte vocazione Viti Vinicola, la città italiana del vino 2023. Lo ha deciso la commissione giudicatrice, che ha esaminato anche le candidature dei comuni di Montespertoli, in provincia di Firenze, e Canelli, in provincia di Asti. Menfi succede a Duino, a Orisina, in provincia di Trieste. Il passaggio di consegna avverrà proprio presso il Comune Giuliano, nel corso dell'Assemblea nazionale, che si terrà domenica 20 novembre, nell'ambito della convention d'autunno delle città del vino, che si svolgerà dal 17 al 20 novembre. Mi congratulo con la sindaca di Menfi, Marilena Mauceri, per il prestigioso riconoscimento, afferma il presidente nazionale dell'Associazione Angelo Radica, che per un anno accenderà i riflettori su di un territorio che oggi rappresenta una delle tante eccellenze del mondo del vino italiano. Menfi si è imposto sulle altre candidature, in quanto, scrive la commissione, propone iniziative che spaziano molto nei vari ambiti della cultura del vino. La cerimonia di apertura è proposta a un respiro internazionale, con il coinvolgimento di Cipro, Grecia, Croazia e Libano, grazie anche alla presenza di Itervitis, itinerario culturale europeo della vite e del vino, con sede a Sambuca di Sicilia. Sono felice ed onorata che Menfi abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento, ha detto il sindaco Marilena Mauceri. Voglio condividere questo risultato con i miei concittadini e ringraziare la fondazione Inicon di Menfi, che ha supportato la candidatura. È tutto, grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento su Video Mediterraneo.